9.000 giri, uno storico marchio, punto di riferimento nel settore delle preparazioni delle auto sportive. Ampio showroom in centro a Milano, con officina specializzata, carrozzeria e sala prove con banco a rulli di ultima generazione. 9.000 giri è specializzato in elaborazioni motore, rimappatura centraline elettroniche, assetti ed impianti frenanti sportivi, modifiche estetiche interne ed esterne per qualunque vettura. In oltre 30 anni di attività, 9.000 giri ha elaborato più di 10.000 vetture. 9.000 giri preparazioni auto sportive è a Milano